Oggi voglio parlarti dell'importanza di avere dei mentori nella nostra vita, così come nel tuo business. Un mentore infatti può fare la differenza tra il raggiungimento dei tuoi obiettivi e la stagnazione. Pensa ai re del passato, mi piace fare questa metafora. Anche i sovrani più potenti di qualunque tempo non governavano da soli, infatti avevano dei consiglieri, persone di fiducia che li guidavano, gli offrivano, diciamo, saggezza e consigli. E questi consiglieri erano essenziali per prendere decisioni cruciali, per evitare errori che potevano costare veramente caro. Un mentore moderno ad oggi svolge un ruolo simile, se ci pensiamo, perché è una persona che ha esperienza, ha già percorso in teoria la strada che stai iniziando a percorrere tu e può offrirti consigli preziosi aiutandoti ad evitare errori, oltre a fornirti nuove prospettive, spesso prospettive diverse da quelle che puoi vedere da solo. Un'altra metafora che mi piace fare, infatti, è quella di un viaggio nella giungla. Se tu devi attraversare una giungla, una foresta, un percorso che non hai mai attraversato, esistono diversi pericoli, dalla possibilità di perdersi, girare a vuoto, farsi male, eccetera. Però puoi affidarti a una guida esperta, a una persona che attraversa, magari costantemente, quel percorso, che ti aiuterà nel raggiungere la tua destinazione il più velocemente possibile e ti accompagnerà, anzi, nel raggiungimento verso di essa. Quindi la guida ti fa risparmiare tempo, ti fa risparmiare energie, che ottimizzi tutto quello che puoi ottimizzare e ti permette di raggiungere il tuo obiettivo più rapidamente e in sicurezza. Per cui potremmo definire il ruolo di mentore come qualcuno che ti sprona a migliorare, ti incoraggia nei momenti difficili e con cui c'è un rapporto di fiducia reciproca che è assolutamente essenziale. La domanda che si fanno molti è come trovare un mentore. Il metodo più facile è quello di trovare qualcuno che ammiri nel tuo settore e che abbia già ottenuto i successi che tu stai cercando, molto semplicemente. Quindi non aver paura di chiedere consigli a chi ha già ottenuto quello che cerchi perché troverai spesso persone pronte a condividere quello che hanno già imparato. Per cui oggi ricorda che anche i più grandi leader non hanno fatto tutto da soli, hanno sempre avuto mentore e consiglieri che li hanno aiutati a crescere e diventare ancora più grandi e raggiungere il loro apice. Quindi segui il loro esempio e apriti a nuove opportunità e velocizza la tua crescita. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, molti imprenditori fanno un errore che è veramente pericoloso, ovvero quello di circondarsi da fintimentori, ovvero da persone che gli dicono sì, sostengono qualunque loro ipotesi, gli dicono sì per tutto e non sono assolutamente critici. Quindi qualcuno li chiamerebbe delle yes men. Il punto è che tu come imprenditore hai bisogno di persone che abbiano una visione diversa dalla tua e che ti pongano delle domande e mettono in discussione le tue scelte, altrimenti sarai sempre da solo e non avrai dei veri consiglieri. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Ciao!